mettici un titoletto dovremmo essere in diretta vediamo se si ci siamo ti vedo non vi vedo bene bene siamo online grazie a Ramon Mantovani di aver accettato l'invito a fare un po' una chiacchierata tra di noi su i rapporti che ci sono tra la Spagna la sinistra spagnola e l'Italia qual è la dimensione della politica adesso in Spagna quali sono le condizioni di un governo che vede anche la partecipazione della sinistra radicale alle scelte appunto alle politiche del governo spagnolo e insomma in generale qual è l'idea Ramon sull'impegno del governo nella situazione attuale che è molto simile a quella che viviamo anche noi in Italia sulla pandemia con lo stato di crisi e con una ripresa dell'impegno del piano nazionale di resilienza che anche in Spagna vedrà al flusso di ingenti quantità di denaro da parte dell'Europa da parte di tutti noi quindi a lui la prima domanda è un po' il racconto qual è la condizione diciamo della sinistra in Spagna e come stiamo affrontando le cose Bene in Spagna non siamo né nel paradiso né nell'inferno nel senso che la situazione è interessante molto interessante è molto al di sotto delle aspettative che c'erano qualche anno fa con la nascita di Podemos e con il grande movimento degli indignati e i grandi movimenti sociali che lo hanno accompagnato però per motivi diciamo di aritmetica parlamentare il partito socialista operario spagnolo ha dovuto o torto collo accettare di formare un governo di coalizione con Podemos e con Ischerda Unida riuniti con altre forze minori in una organizzazione in una lista in una coalizione che si chiama Unidas Podemos Ora non sto a raccontarvi molte cose che sapete già cosa è successo in Catalunia cosa è successo con il re che è il re emerito che è scappato che è sotto inquisizione insomma ci sono tanti tanti fatti che sono successi e che hanno determinato novità nella politica spagnola ma io mi atterrei alla questione principale e cioè questo governo questo governo ha una politica in grado di cambiare il corso delle cose io dico che può averla può averla perché ancora i nodi più grossi non sono venuti al pettino ci sono molte cose positive ovviamente i diritti civili l'eutanasia eccetera ci sono cose diciamo così che sono state permesse dall'emergenza dell'epidemia perché la cassa integrazione che verrà adesso prorogata fino a gennaio dell'anno che viene il reddito di cittadinanza insomma diverse spese che sono state fatte al contrario di quello che si è fatto con la scorsa crisi per sostenere almeno parzialmente le classi subalterne sono state cose importanti che sono state svolte politiche nella politica spagnola soprattutto dopo l'orda neoliberista del partito popolare anche del partito socialista opereo spagnolo degli anni 2000 e anche quello precedente quindi ci sono delle ottime prospettive se sempre se il partito socialista opereo spagnolo non sceglierà di far cadere il governo lui non accettando di applicare sia quello che ha scritto nel programma di governo con Podemos e con Ischierda Unida sia non negoziando con le forze di sinistra radicale basche e catarana che lo hanno sostenuto che gli hanno dato i voti sufficienti ad essere in carica che hanno votato il bilancio l'anno scorso e che naturalmente pongono condizioni in gran parte condizioni di natura politico sociale che sono analoghe se non identiche a quelle che pone anche Unidas Podemos e Ischierda Unida dico che dipende dal PSOE per un motivo perché il PSOE è un partito liberale liberista social liberista molto avanzato sui diritti civili ma liberista come tutti gli altri partiti socialisti e socialdemocratici europei e però è anche un partito che ha delle connessioni strutturali con il sistema di potere non è che lo è solo per vocazione lo è perché è una parte dell'organizzazione dell'oligarchia economica spagnola basti pensare al fatto che adesso uno dei problemi più scottanti che c'è il governo in mano è il costo dell'elettricità e non so quanti dirigenti socialisti una volta finito il loro mandato come ministra cominciare da Felipe Gonzales eccetera sono passati i consigli di amministrazione delle aziende elettriche che hanno privatizzato tutto e che hanno fatto tutto quindi abbiamo un sistema di potere che naturalmente sta sta innervosendosi per le politiche che sono state portate avanti da parte del governo perché è costretto dalle circostanze che ho appena detto rimangono due questioni importantissime la prima è la questione delle abitazioni cioè della regolamentazione degli affitti che è una rivendicazione di Unidas Podemos è una rivendicazione di Bildu è una rivendicazione della sinistra indipendentista catalana anzi anche della destra catalana perché il governo indipendentista catalano ha approvato una legge insieme con l'attiva partecipazione del movimento contro gli sfratti che in Spagna sapete è potentissimo ha impedito in una decina d'anni circa centomila sfratti non tre o quattro centomila ed è un movimento molto potente e comunque il governo catalano ha varato una legge che è tuttora in vigore in Catalunia che regolamenta gli affitti insieme alla PAA al movimento contro gli sfratti e ai sindacati degli inquilini ovviamente è passibile di essere di essere annullata dalla Corte Costituzionale che come al solito sul ricorso si pronuncerà e dirà che non è competenza della comunità autonoma e così via insomma il PSOE sebbene ci sia scritto sul programma di governo che bisogna regolamentare gli affitti il PSOE vuole solo fare anzi un regalo agli speculatori e cioè fargli agevolazioni fiscali in modo tale che loro mettano sul mercato le case in affitto ovviamente questo ha fatto incazzare tutti i movimenti sociali ha fatto incazzare tutta la sinistra spagnola e catalana e basca e anche galiziana gallega e questo è diventato un nodo che è ancora irrisolto perché fino adesso avrebbe dovuto essere già operativo nella pratica di governo invece non si è ancora raggiunto un accordo per fare e questa è la prima questione la seconda questione verrà più avanti questo nodo è la questione delle pensioni cose positive invece stanno succedendo su altri su altri versanti per esempio il salario ma qui c'è anche lo zampino della ministra del lavoro che adesso è diventata vicepresidente del governo che è comunista del partito comunista di schierda unida Yolanda Diaz perché è riuscita a far sì che il governo vari un ulteriore aumento del salario minimo interprofessionale di poco ma per stare dentro un trend che è aumentato già di 200 euro circa negli ultimi tre anni e per portarlo poi alla media al 60% della media dei salari spagnoli ci vogliono ancora circa 150 euro se non erro per parlare di un salario minimo di 1120 una roba così il governo ha varato testè pochi giorni fa questo è un ulteriore aumento questa volta però senza l'accordo della confindustria cioè della patronale si chiama la confindustria la quale si è presentata al tavolo con i sindacati il governo dicendo che non si doveva aumentare il salario minimo neanche di un euro e così è entrata e così è uscita però questa volta il governo se ne è fottuto e ha fatto l'aumento del salario come vedete quindi stiamo in una situazione di interlocuzione ancora io non sono molto ottimista francamente conoscendo la grandezza degli interessi che si stanno per toccare e conoscendo almeno indirettamente mica li conosco personalmente però conoscendo i dirigenti del partito socialista operario spagnolo che sono molto bravi quando sono all'opposizione a promettere Mari e Monti ma che poi si sono sempre 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 ultra adeguati ai diktat della troica dell'Unione Europea e soprattutto agli interessi di quelli che qui di quello che qui si chiama l'Ibex 36 che c'è il listino delle 36 aziende quotate in borsa in Spagna più potenti poi se volete parliamo meglio dello stato della sinistra spagnola perché qui ho parlato solo del governo intanto grazie non ti ho presentato perché molti diciamo quelli che seguono Transform e siamo anche in diretta con la pagina Facebook di Rifondazione Comunista sanno che Ramon è una colonna storica del nostro terrorista no non è vero sei stato un pilastro per soprattutto per dei rapporti con l'estero per Rifondazione Comunista e adesso vivi a Barcellona e quindi hai la possibilità di un racconto dall'interno di questa storia e va beh certo e con noi abbiamo come avete sentito anche altri ospiti abbiamo alcuni membri della redazione Transform a cui cedo subito la parola a cominciare da Riccardo Rifici e con noi anche c'è Roberto Musacchio e Franco Ferrari che alternativamente vorremmo delle questioni dico Riccardo sì ma la crisi climatica ha reso ormai indiscutibile la questione ambientale tanto che molti personaggi e anche molte forze politiche non necessariamente di sinistra si dichiarano ormai ambientalisti anche se non hanno mai messo in discussione il modello economico liberista ecco piacerebbe capire se secondo te se in Spagna e anche nel resto d'Europa per quello che tu conosci questa questione ambientale è veramente entrata diciamo nel patrimonio genetico della sinistra se davvero può diventare una questione diciamo non una questione collaterale messa lì per esempio nelle tesi di fondazione c'è un capitolo su questa questione ambientale ma si è diventata una questione strutturale che attraversa trasversalmente tutte le questioni per poter fare diciamo attuare e mettere in atto un modello di cambiamento io penso di sì penso che per la Spagna si possa dire questo sia sulla questione ambientale sia sul femminismo sono due elementi ma io adesso parlerò ovviamente della questione ambientale che sono si possono veramente considerare come strutturalmente al centro dell'elaborazione e anche della pratica politica delle organizzazioni della sinistra chiamiamola radicale alternativa e così via e certamente il PSOE a parole lo è ambientalista ma nei fatti non molto anzi spesso per niente perché dico questo è anche per questo che non esiste un partito verde in Spagna che abbia un peso né elettorale né politico perché in schierda unida storicamente è sempre stata una forza ambientalista e questo è un paese nel quale il difetto di avere un sistema politico di fatto bipartitico con un terzo incomodo che è sempre stato penalizzato alle elezioni dallo stesso sistema elettorale parlo di schierda unida e dei comunisti sostanzialmente ha dovuto supplire questa assenza di possibilità nelle istituzioni di pesare ha dovuto insomma supplire a questo organizzando grandi movimenti sociali e questo è un elemento importante da capire per la realtà spagnola e gran parte di questi movimenti sociali sono stati di natura ambientalista adesso non stiamo a ricordare per fare solo un esempio quando ci fu il famoso disastro in Galizia che ci fu la marea nera di petrolio eccetera infatti tutti i movimenti sociali da allora si chiamano la marea perché il movimento che protestò contro quella roba lì diciamo divenne egemone come concezione di partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla politica attraverso i movimenti sociali attraverso il conflitto sociale possiamo fare un esempio che è molto all'ordine del giorno e che mi permette di dire una cosa forse meno positiva sulla questione ambientale c'è in atto uno scontro furibondo dentro il governo nazionale spagnolo dentro il governo catalano e dentro il governo della città di Barcellona sull'ampliamento dell'aeroporto sull'ampliamento dell'aeroporto perché insisterebbe su una su una cosa protetta dal punto di vista naturale è una zona di rilevanza ambientale europea sì però diciamo anche che è una cosa molto piccola e non stiamo parlando del delta dell'Ebro o del delta del Po stiamo parlando di Po molto poco ma comunque il problema in realtà non è solo questo il problema è il futuro se si vuole puntare sul turismo di massa low cost e deindustrializzare ulteriormente la Catalunia e quindi c'è bisogno di un aeroporto più grande di più traghetti o per meglio dire traghetti navi da crociera e così via che inquinano enormemente oppure se si vuole contenere questo fenomeno almeno fermarlo e qualificarlo e reindustrializzare e puntare su altri settori produttivi e questo è lo scontro che c'è è chiaro? e su questo scontro sono divisi tutti e due i governi perché la destra indipendentista catarana sarebbe propensa a fare questa roba scherra repubblicana no e così il governo spagnolo ha preso la palla in balza e ha detto va bene allora di questo progetto non se ne fa niente un miliardo e settecento milioni di euro ve li scordate e noi ce li teniamo noi li spenderemo nel resto della Spagna e questo ha aperto un cataclisma perché dico questa cosa? perché questa cosa è stata accompagnata intanto da una grande manifestazione il sabato scorso che c'erano circa 80-90 mila persone in piazza che sotto la pandemia non è una cosa da poco e perché tutte le organizzazioni sociali che sono molte che si sono schierate apertamente contro questa cosa qua hanno invocato più una critica del modello di sviluppo che non la protezione biologica della cosa naturale e diciamo che il 90% dell'argomento è consistito in questo e questo è un segno importante e lo stesso dicasi per i partiti di sinistra che hanno fatto questa cosa a cominciare dai comuns e dalla sindaca Colau che però ha il governo diviso a metà perché i socialisti che stanno in giunta con lei sono invece ultra favorevoli non favorevoli ultra favorevoli a questa cosa e introduco l'elemento un po' discutibile e problematico la giunta di sinistra di Barcellona sta facendo un grande cosa ha fatto cose ottime scontri durissimi con l'azienda dell'acqua che è privata da sempre non è che è stata privatizzata da poco è sempre stata privata e che la città voleva recuperare dal punto di vista recuperare voleva nazionalizzare non ce l'ha fatta ma lo scontro è stato portentoso scontro con le distributrici dell'energia elettrica scontro scontro con i poteri forti scontro con multe milionarie Airbnb per per la gentrificazione per la speculazione immobiliare tutte queste cose sono state fatte sono state ottime ma ci sono cose che perché non sono di competenza del comune e non sono alla portata dei movimenti sociali non sono aggredibili e allora se è vero che c'è stato questo scontro lo scontro è stato perso in realtà su molte di queste cose e invece filaliscia la ristrutturazione della città da un punto di vista ambientale per ridurre il traffico ridurre come si chiama come si dice l'inquinamento per pacificare si dice qui le strade cioè renderle più vivibili sia perché ci sono meno macchine ma perché vengono attrezzate con le piste ciclabili con tutte cose sono cose ottime meravigliose peccato che se non si mette mano alla speculazione immobiliare eccetera sarà una città pulita verde meravigliosa per i ricchi per i ricchi e le classi popolari dovranno vivere peggio perché poi se fra pochi mesi molti veicoli antichi non potranno più entrare a Barcellona già adesso ma questi sono antichissimi e negli ultimi vent'anni sono state espulse le classi popolari e in assenza degli investimenti dello Stato spagnolo che non fa sui treni di competenza dello Stato spagnolo che si rifiuta di dare in gestione alla comunità catalana la gente dovrà per forza pigliare la macchina sarà un ulteriore e dovrà pagare magari per entrare in città o comprarsi una macchina nuova perché quella vecchia non gliela fa insomma gli fanno la vita impossibile è chiaro e quindi si rischia che con le migliori intenzioni mettiamola così forse con un certo grado di ingenuità o di sottovalutazione degli elementi strutturali che una cosa è stare all'opposizione dai movimenti sociali dire adesso andiamo al governo e faremo tutto noi invece sembra che quando sei al governo ci siano cose che decide la Commissione Europea altre che decide il governo spagnolo altre che decide il governo catalano e tu e il comune non puoi e questo diventerà un problema per i comuni ovviamente un problema serio perché si comincia a tagliare l'erba sotto i piedi alla forza politica che governa nelle classi subalterne nelle classi popolari e questo è un problema che se non capiscono presto darà un frutto negativo grazie Ramon Franco Ferrari si ma io voglio provare a ragionare un po' sulla dimensione europea perché la Spagna è stata un po' un punto di riferimento soprattutto per l'esperienza di Podemos che è stato diciamo un tentativo di proporre una strategia cosiddetta di populismo di sinistra che ha poi trovato anche degli altri sostenitori seguaci in altri paesi ma quello che mi sembra anche vedendo poi in questi in questi settimane ci sono anche appuntamenti elettorali anche diversi si vota in Germania domenica dove la link è un po' in difficoltà si è votato in Norvegia dove la sinistra è divisa ma dinamica si vota in Islanda che è una realtà molto particolare ma anche lì c'è una sinistra attiva ci sarà la Francia l'anno prossimo insomma c'è stato il Portogallo dove la sinistra anche divisa ha avuto un ruolo ecco mi sembra di poter dire che c'è una sinistra alternativa radicale che ha dato segni di vitalità però si trova di fronte mi sembra a diversi problemi uno di questi è il rapporto che tende a venire fuori con la socialdemocrazia perché poi alla fine quando ci si pone il problema del governo lì si finisce che in qualche paese la socialdemocrazia ha adottato una retorica un pochino più di sinistra aumentare le tasse ricchi aumentare il salario minimo per dire in Germania ma così anche in Norvegia però fino a che punto in realtà questi cambiamenti retorici sono spostamenti politici oppure sono solo elementi elettorali quindi questo è un aspetto ci sono esperienze anche di governo ma si scondano queste difficoltà e l'altro è la dimensione proprio dell'Europa come Unione Europea in cui le classi dominanti insomma la Francia e la Germania andranno a dover ridefinire una prospettiva anche in un contesto mondiale che è molto modificato ma rispetto alla quale mi sembra la sinistra alternativa fa fatica e forse già un eufemismo come dire a esprimere un orientamento comune ecco volevo chiederti un po' come la vedi questa dimensione più continentale guarda io questo mi spiace ma sono molto pessimista perché io penso che in tutta Europa non ci sia la consapevolezza di che cosa è la sconfitta che abbiamo subito e che ci sia in un paese ora e in un paese domani e in un altro dopo domani l'illusione che con un escamotage con un successo elettorale perché c'è il leader o perché abbiamo inventato una nuova formula come quella neopopulista di Podemos o con un modo o con un altro riusciamo a risalire la china e a cambiare la realtà io penso che questo sia impossibile impossibile perché la struttura economica finanziaria e di potere sfugge totalmente alla dimensione nazionale della politica finché non ci sarà una consapevolezza di questa cosa e non ci sarà per dirla come si diceva un tempo l'Europa buona ci sarà il giorno che ci sarà uno sciopero generale europeo o che ci sarà una lotta portata avanti contemporaneamente in tutti i paesi sullo stesso problema questo non c'è stato e non c'è e non si vede all'orizzonte e quindi sono pessimista su questo perché se non si aggredisce il nemico dov'è e ci si limita a sperare di poter amministrare le conseguenze di cose che non puoi contribuire a decidere né in positivo né evitandole negativo è evidente che sei destinato a un'altalena che va fra il successo la delusione l'insuccesso e riproviamoci come è successo in molti paesi perché anche adesso parlavamo della Spagna ma in Spagna Podemos è nato e stava nei sondaggi per essere il primo partito no? è certo che è facile fare questo con un leader che è televisivo prima di diventare leader politico è facile in un momento di grandi movimenti sociali no? che hanno sfondato nell'opinione pubblica e che avevano la simpatia dell'opinione pubblica e ci puoi mettere la teoria che vuoi di Laclau o di chi vuoi ma comunque il fenomeno è descrivibile così come l'ho descritto io né più né meno e si pensava che Podemos avrebbe vinto e sarebbe diventato il primo partito e non solo non è stato vero ma possiamo pur dire che Podemos oggi occupa lo spazio politico che storicamente ha occupato gli schierdoni da ogni partito comunista può esserci un decimo in più un decimo un punto in più un punto in meno se non era il 12 era il 13 se non era l'11 era il 10 ma siamo lì e ovviamente una volta che tu devi porti il problema del governo perché a quello non puoi sfuggire in positivo e in negativo il problema esiste che se ti presenti alle elezioni in Parlamento e in sistemi politici nei quali il presidenzialismo anche se non c'è nella legge ma però è diventato strisciante di fatto e la gente vota per vedere chi vince e chi governa e tu ti devi porre questo problema in Italia l'abbiamo visto noi ce lo siamo posti in tutti i modi in tutti i modi possibili il risultato è sempre stato che siamo stati sconfitti e abbiamo pagato dei prezzi salatissimi temo che succeda anche qua e che succederà in Francia con Mélenchon e che è successo è già successo con la Link come tu hai detto adesso è in crisi ma solo tre anni fa tre o quattro anni fa sembrava che la Link fosse in procinto di fare il salto di qualità io penso che il problema sia molto più profondo molto più strutturale e che le questioni che attengono al governo alle elezioni poi dipende dai sistemi elettorali così via siano mere questioni tattiche invece la sinistra tutta noi compresi tutti tendono a vedere le questioni elettorali e tattiche interne alla logica del quadro politico come questioni identitarie come questioni che attengono alla natura della tua forza politica per cui se fai l'alleanza con il PD in una comune vuol dire che sei sei andato dall'altra parte della barricata oppure che se non fai l'alleanza con il PD sei diventato una setta religiosa non so se è chiaro e questo lo si comincia a vedere dappertutto anche nel resto d'Europa penso io certo io adesso non dispongo delle relazioni e degli incontri e delle pratiche che avevo quando mi occupavo di questo però qualcosa seguo e a me pare che il problema centrale sia questo dopodiché in ogni paese troveremo cose interessantissime in Portogallo è interessante tutto quello che è successo sia per quello che ha fatto il Partito Socialista sia per quello che hanno fatto il blocco delle schierda e il Partito Comunista Portoghese abbiamo visto cosa è successo in Grecia in Italia in Spagna e in Francia invece che porsi il problema di che cazzo è successo in Grecia veramente si sono messi a dire quello è un traditore è sbagliato no quell'altro come se la questione fosse risolvibile dal governo greco e non era risolvibile il ricatto o mangi la minestra o salti dalla finestra cioè se tu non accetti il diktat domani mattina voi uscite dall'euro perché l'Unione Europea si può permettere tranquillamente che voi usciate dall'euro avete il prodotto interno lordo che non incide su nulla quindi volete uscire dall'euro uscite dall'euro e la mattina dopo se tu hai 100 euro in banca ne avrai 30 e vedremo poi il popolo greco che cosa vi dirà questo è quello che è successo perché c'è un problema strutturale c'è un problema che attiene alla natura di questo capitalismo finanziarizzato c'è un problema dagli accordi di Bretton Woods c'è un problema sulla moneta quanta parte del dibattito in Europa è sull'euro ma vorrei dire io penso che l'euro sia una punta di diamante della liberalizzazione di tutto delle politiche neoliberiste ma bisogna anche sapere che fino a Bretton Woods le monete potevano valutarsi e svalutarsi molto limitatamente fra di loro e che dalla sera alla mattina c'è stato il libero mercato e la lira in 15 anni valeva un terzo di quello che valeva 15 anni prima dal 71 all'85 da 623 lire è andata a 1900 e non so quanto che per un paese che deve comprare tutta la materia energetica in dollari è stato un grande incentivo alla deindustrializzazione e allora quelli che dicono ah beh noi usciamo dall'euro e recuperiamo la sovranità non c'è quella sovranità e non ce l'hanno neanche i paesi che non stanno nell'euro come si è visto in America Latina allora io purtroppo a questa domanda rispondo con questa nota di pessimismo lo faccio anche un po' apposta perché secondo me i dati strutturali che non sono colpa di questo di quell'altra scelta politica che le singole forze hanno fatto non sono i responsabili delle nostre sconfitte c'è una responsabilità che sta nei fatti nella potenza del nostro nemico che è riuscito a fare quello che ha fatto anche introducendo il pensiero unico anche introducendo un'egemonia totale di individualista e competitiva su tutto e quindi spero che qualcuno cominci a capirlo che si cominci cioè molta gente l'ha già capito ma che si cominci a capire che bisogna come diceva non mi ricordo più chi non ha importanza che quando tutto è perduto bisogna serenamente ricominciare da capo e ricominciare da capo significa dalle lotte dal conflitto sociale e nella fattispecie anche dal conflitto ambientale dal conflitto contro il patriarcale queste lotte possono aggredire il nemico in una fase di crisi come questa e preparare la possibilità che ci si possa rimettere a parlare con la gente essendo capiti e non essendo visti come dei marziani che parlano di cose che non capiscono grazie Ramon la situazione era di Gramsci e si però no io devo dire condivido cioè condivido senz'altro la tua idea che insomma la gestione europea è una questione abbastanza risolta per la sinistra le differenze nazionali contano poco se non siamo capaci di costruire un'opposizione a quel livello tant'è che insomma noi come Transform ci stiamo impegnando da sempre a provare diciamo a introdurre questo punto di vista e siamo sono contento che anche tu condividi questa opzione necessaria per la sinistra in Italia ma a livello continentale chiedo a Roberto adesso Musacchio se anche lui aprendo il microfono può parlare un po' e apri il microfono l'ho aperto l'ho aperto io adesso diciamo che Ramon ci ha portato precisamente dove pensavamo di dover arrivare ora io sono molto convinto che la dinamica sia quella che lui diceva con questa frase quando ci sarà lo sciopero generale europeo ci avremo l'avvio di un'altra Europa insomma ecco la domanda che faccio è se questa cosa può essere accompagnata politicamente con un diverso livello della soggettività politica insomma adesso Morea lo poneva insomma come nostra fissazione questa storia che agisca un partito con una dimensione europea in quanto tale non semplicemente con il coordinamento dei partiti io ho fatto il parlamentare a livello europeo come sai a me è capitato qualche volta di interfacciare l'iniziativa parlamentare anche con i movimenti molto sulla difensiva però faccio due esempi uno la direttiva Bolkestein e l'altro è la questione della direttiva orario e in entrambi i casi abbiamo avuto anche la direttiva che sostanzialmente generalizzava all'Europa la liberalizzazione degli orari l'opting out sul modello inglese in entrambi i casi in interfaccia con i movimenti sindacali ci sono stati anche con manifestazioni anche europee di una certa rilevanza insomma faccio questi esempi e non quelli del social forum ma è perché quella è una dimensione un po' più diversa più valoriale naturalmente strutturale anche quella ma per stare un po' all'esempio che dicevi te allora mi sono molto chiesto in questa fase se appunto di fronte alla pandemia battaglie tipo quella di garantire il vaccino a tutti e togliere i brevetti contemporaneamente una battaglia su questa storia dei piani di rinascenza che rischiano di essere una sostanziale ristrutturazione capitalistica fatta paese per paese ma con delle linee guida europee sarebbe possibile avere invece un soggetto politico europeo che in qualche modo riesce invece ad operare in quanto tale a mettere insieme a creare una contemporaneità sui momenti alti noi abbiamo avuto un momento alto in Italia e poi la sconfitta un momento alto in Grecia e poi la sconfitta un momento alto in Spagna e poi in Germania e invece provare a mettere insieme momenti alti e anche a reagire ai momenti difensivi anche su uno scenario più largo ecco questa è una cosa che non ti avevo detto prima quando abbiamo chiacchierato io penso che c'è anche una novità cioè di avere una sinistra socialista negli Stati Uniti che forse non c'era mai stata penso per esempio alla battaglia sui ricchi sulla ricchezza che potrebbe anche essere un'interfaccia fatta con gli Stati Uniti in questo momento Sanders si sta battendo per questo People Act questo legge per il popolo c'è qualche riflessione anche a sinistra sulla vicenda dell'Afghanistan qui sembriamo quasi orfani della guerra in Italia quando la guerra era sbagliata naturalmente è finita in cui non è finita e le spese ne fanno quelli lì ecco questa soggettività si può fare anche senza quel movimento che è lo sciopero generale che la crea o al contrario possono interfacciarsi io penso che lo sciopero generale che la crea come presupposto indispensabile e che poi ci sia necessaria ci sia la necessità di quella soggettività di cui hai parlato che come sai io quello che tu hai detto lo condivido al cento per cento però se le forze della sinistra alternative in Europa non capiscono che bisogna ripartire dalla ricostruzione dei legami sociali e che questi legami sociali che non sono solo politici e sindacali che sono proprio sociali immediatamente e che devono avere anche una dimensione sovranazionale se non si capisce questo secondo me è difficile che poi la soggettività non ricada drammaticamente nelle tattiche elettoralistiche nelle illusioni negli abbagli nella ricerca delle scorciatoie cambiamo nome eccetera non so se mi sono spiegato perché io penso che questo oramai credo che sia piuttosto evidente a occhio nudo per chi lo vuole vedere farò un esempio per spiegare che sembra che non c'entri niente invece c'entra quando nel casino che è successo in Catalunia con il movimento indipendentista c'è stata una tornata elettorale quella imposta dal governo spagnolo quando ha sciolto il Parlamento commissariato tutto eccetera il primo partito in Catalunia con il 25% è diventato un partito di destra che era nato pochi anni prima che si chiama Ciutadans che è nato qui in Catalunia ora c'è stato uno studioso un professore universitario che è la prima volta che ho visto fare questo e mi sembrerebbe una cosa da dover replicare dappertutto ha studiato il flusso elettorale di questo partito nei quartieri di Barcellona allora ha scoperto che nei quartieri più ricchi e nei quartieri più poveri Ciutadans ha preso più della media del suo partito cioè il posto dove ha preso più voti quartieri più ricchi quartieri più poveri qualcosa per esempio smentisce che il movimento indipendentista è fatto dalla borghesia egoista catalana perché nei quartieri ricchi i catalani ci stanno soprattutto ovviamente non gli immigrati va bene ma nei quartieri parliamo di quartieri molto piccoli cioè molto ben identificati e con cose precise parliamo di una settantina di quartieri sono sei distretti e 72 73 quartieri Barcellona cosa ha fatto lui? Ha incrociato i dati di quartieri identici dal punto di vista geografico cioè quartieri contigui sociale dal punto di vista del reddito e così via e ha scoperto che in alcuni ciutadani prendeva il 13% e in altri prendeva il 28% come mai? Sono quartieri identici uguali precisi sputati perfino contigui territorialmente li ha incrociati con che cosa? Quante associazioni attive ci sono nei quartieri e la matematica dice che più associazioni ci sono di tutti i tipi politiche qui ce n'è tante ma anche quelle che tengono in vita la cultura catalana quella delle feste popolari il comitato degli abitanti del quartiere che mette il naso su tutto e che deve sempre il comune trattare con i comitati più associazioni attive ci sono nei quartieri meno voti per ciutadani meno associazioni più voti per ciutadani allora una persona minimamente di sinistra cosa si propone di fare dove non ci sono di creare questi legami sociali di creare questa struttura sociale di metterla in collegamento con le altre di farla vivere perché anche la lotta che perde cambia la gente anche l'attività sociale che non c'entra con la politica né con l'istituzione ma che si occupa per esempio di ambiente si occupa per esempio di cultura si occupa di questo di quell'altro quella roba lì cambia la vita della gente cambia il modo di pensare cambia il modo di vedere le cose e la gente diventa un po' più difficile da imbrogliare con la demagogia e con le semplificazioni alla cittadinanza alla destra liberista eccetera questo è quello che dico io ma questo lo possiamo estendere anche a livello europeo ovviamente che fa tre debiti i debiti ragionamenti ma se non ci sono movimenti sociali a cui la gente appartiene sente di appartenere e che hanno un rapporto strutturale con i partiti e con le istituzioni quando si può avere la rappresentanza non si può pensare illudersi che il problema venga sormontato spero di essermi spiegato di non passare per un teorizzatore dell'autonomia del sociale perché io sono contrario sia all'autonomia del sociale sia all'autonomia del politico grazie grazie sono condividendo con te anche questa esperienza siamo consapevoli che l'associazionismo ma i movimenti hanno una loro rilevanza tuttavia insomma in Italia noi abbiamo avuto esperienza noi abbiamo questa esperienza da Genova fino arrivare ai giorni nostri con occasione anche per dire che il 30 ottobre faremo una grande manifestazione proprio promossa da Genova quindi rimettere in moto questo attivismo questa attività che è anche un modo anche per rinvigorire questa volontà e capacità di essere agenti del contemporaneo poi devo dire che noi quelli che siamo qui abbiamo tutti un'età che abbiamo cominciato la nostra esperienza politica con le lotte non è che l'abbiamo cominciata con le elezioni o no Cricri e io facevamo delle lotte nel quartiere ti ricordi no Cricri io ho imparato più da quelle lotte lì che non a scuola poi nel movimento sull'interno assolutamente è vero bene io intanto ti ringrazio per aver accettato questo nostro invito e non so se ci sono altri commenti o di intervenire da parte di altri ho sicuramente noi siamo la vigilia di elezioni amministrative anche a Roma e come dici tu il livello delle città non è sganciabile non è isolabile dalle dinamiche che investono i processi economici politici a livello europeo quindi condividiamo con te la necessità che ci sia dentro anche l'amministrazione dentro i livelli di elezioni locali quella capacità di lettura dei processi che necessariamente come ricordavi ha bisogno di avere quel livello di almeno europeo per capire che cosa succede noi viviamo anche una contraddizione che è quella che molte di quelle associazioni a cui fa riferimento tu poi subiscono un po' un arretramento sul piano politico quindi per avere un'interlocuzione istituzionale si adeguano eh sì e quindi questa questa è un'altra delle contraddizioni che dobbiamo mettere in campo e che aumenta diciamo se è possibile la difficoltà questo attiene anche ai sistemi elettorali perché dove c'è il presidenzialismo come in Italia c'è nei comuni e nelle regioni è evidente che uno si alza io voglio fare il signo chi viene con me eh 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 tutto è fondato su su vabbè lo sapete meglio di me sì va bene intanto ti ringrazio ancora per io che vi ringrazio per il vostro lavoro che è molto prezioso e molto meglio di quello che posso fare io oggi assolutamente sei una nostra risorsa ma stasso spendiamo la diretta perché questa parte non va bene grazie grazie la monna è autoironia eh sì sì anche la mia è autoironia insomma vi saluto come si saluta qui saluti Repubblica sì saluti Repubblica grazie a tutti Grazie.